Generale Anicelli, ma dobbiamo aspettarci ancora maltempo come la settimana scorsa? No, intanto questa fase sta passando perché quel ciclone si è colmato, però la situazione generale non è guarita in quanto si formerà un nuovo ciclone che ci indirizzerà e rafforzerà sistemi perturbati su di noi. Continuerà a piovere sulla marca come in tutto il Veneto, ma con meno intensità. Queste le previsioni del nostro storico meteorologo, che innanzitutto però preannuncia un fine settimana all'asciutto, almeno fino a metà domenica. Nuova ondata di maltempo, da domenica a pomeriggio. Per la prossima settimana ancora una variabilità estrema, lunedì e mercoledì è prevista della precipitazione anche intensa, agli altri giorni una variabilità, una variabilità però sempre al limite. Il vero problema, sottolinea il meteorologo, sarà il suolo ancora intriso d'acqua. Piogge diffuse, continue, ma non intense per adesso, il tempo è sempre in evoluzione, quindi diffuse che ci porteranno, almeno secondo le previsioni, dai 15 ai 18 mm di pioggia, sia lunedì sia mercoledì. Quindi il terreno, ripeto, dovrà assorbire quest'acqua. Pioggia che oltre i mille metri sarà neve, mentre in pianura le temperature rimarranno sopra la media stagionale. L'inverno è finito, non ci dovrebbero essere più gelate e quest'inverno veramente è stato all'insegna del tempo mite. E in questa variabilità della prossima settimana, particolare attenzione da parte di tutti è per giovedì. E per giovedì, che in tutta la marca si brucia la veccia? Beh, intanto la situazione ci induce all'ottimismo dopo il brutto tempo di mercoledì. In parte di giovedì mattina dovremmo avere una serata all'insegna del cielo poco nuvoloso, addirittura sereno. Però ricordiamo sempre che al tempo non si comanda.